Epotocarcinoma, prevenzione e cura è l'argomento affrontato a Palermo per puntare l'attenzione su questa patologia. Nas dei carabinieri nelle aziende vinicole etnee, diverse irregolarità tra le quali assenza di tracciabilità, carenze, igienico-sanitari e prodotti scaduti. A Santa Maria di Licodia l'aria artigiana è sempre una discarica. Inizio ottobre il sindaco Giovanni Butto si era impegnato a risolvere la questione in due settimane ma nulla è cambiato. Direttore della TG1 Giammarco Chiocci è in Sicilia per una due giorni. L'occasione è la consegna della Torre d'Argento, premio organizzato a Santa Maria di Licodia e giunto alla sua 35esima edizione. Mister Bianco in comune, 5 nuove assunzioni e 3 progressioni verticali. Il sindaco Corsaro prosegue storica la fase di rafforzamento organica dell'ente. Buonasera, ben trovati per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità. Epatocarcinoma, prevenzione e cura è l'argomento affrontato a Palermo per puntare l'attenzione su questa patologia. Vediamo. Epatocarcinoma, prevenzione e cura è l'argomento affrontato a Palermo per puntare l'attenzione su questa patologia. La Sicilia è stata la prima regione in Italia a costituire la rete per la cura dell'epatocarcinoma con i centri AB e SPOC. Sono circa 150 i pazienti seguiti in un anno dal centro di gastroenterologia del Policlinico di Palermo, mentre i casi discussi dal team sono 180 15-20 i giorni per la diagnosi. L'epatocarcinoma è il più frequente tumore primitivo del fegato che nella maggior parte dei casi si sviluppa su un fegato cirrotico. Questo tipo di tumore rappresenta la terza causa di morte per neoplasia nel mondo dopo polmone e colon. Considerato che tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo dell'epatocarcinoma si contano l'abuso di alcol con conseguente sviluppo di cirrosi, le epatiti virali e la sindrome metabolica, un ruolo chiave può essere svolto dalla prevenzione e dall'opportunità di indirizzare i pazienti ad effettuare con regolarità controlli con l'obiettivo di diagnosticare l'eventuale presenza dell'epatocarcinoma in fase precoce. Ogni paziente, indipendentemente dalla sede di partenza, può avere ogni opzione terapeutica disponibile. E' possibile fare confronti non soltanto al momento della diagnosi, ma anche nei vari momenti della storia di questa patologia, che purtroppo è caratterizzata anche dal fatto che ci sono un elevato numero di recidive dopo i trattamenti anche radicali, quindi necessità di ritrattamenti e quindi di rivalutazione di volta in volta di processi diagnostici e terapeutici già per il singolo paziente. E' un fiore all'occhiello italiano per quanto riguarda proprio la gastroenterologia e le malattie di fegato. Abbiamo una scuola di specializzazione molto attrattiva, è l'unica scuola di specializzazione in gastroenterologia, peraltro in regione, che attira diversi specializzanti, per cui abbiamo un numero di specializzanti anche piuttosto alto rispetto alle altre regioni. Le reti sono proprio uno strumento di innovazione, di equità e anche di equilibrio tra quelle che sono le tecnologie e le risposte giuste da dare ai pazienti e le economie. Abbiamo sviluppato tanti progetti di informazione con l'aiuto delle società scientifiche e con i clinici e cerchiamo di dare sempre qualche novità al paziente, ma soprattutto un supporto, perché quando arriva la diagnosi di tumore, qualsiasi esso sia, è un macigno sulla famiglia. Ultimamente, oltre al numero verde, abbiamo anche un esperto risponde su questo tipo di problema e addirittura un servizio, il nutrizionista risponde. Considerare il percorso dalla prevenzione alla diagnosi precoce e poi ovviamente alla cura significa dare ai nostri concittadini una risposta importante. È ovvio che in questo dobbiamo ringraziare il contributo degli organi di informazione, perché senza di loro tutto ciò che è prevenzione difficilmente abbiamo modo di poterla portare a tutti quanti. Intendo dire con questo che i principi fondanti di un buono stato di salute sono quelli di un corretto stile di vita e di una buona alimentazione. E adesso la pagina di cronaca, Nass dei Carabinieri nelle aziende vinicole etne diverse irregolarità, tra le quali assenza di tracciabilità, carenze igienico-sanitari e anche prodotti scaduti. Gusto certamente, ma anche fenomeno di moda. Parliamo del vino che conta un numero crescente di estimatori, tuttavia non sempre quel che finisce nel calice di buona qualità. E se non si è davvero esperti, è facile cadere nel tranello di produttori o ristoratori interessati più che al rosso doc ad ingrossare il portafoglio. A tutela del consumatore, il NAS dei Carabinieri di Catania, che ha eseguito una trentina di ispezioni presso aziende vinicole etne vocate alla produzione, per garantire il rispetto della normativa igienico-sanitaria. Il bilancio parla di 190.000 bottiglie di vino e di oltre 150.000 capsule sigillanti sequestrate, per complessivi 220 ettolitri di vino tenuto in contenitori anonimi privi di rintracciabilità. Un'attività volta a impedire l'imbottigliamento con etichette non corrette o infedeli. Scendendo nei particolari, in un deposito sono state riscontrate grave carenze igienico-sanitarie all'interno. Il locale era invaso dai escrementi di roditori, sospesa l'attività dell'azienda. Ingenti quantitativi di vinacce stoccate sul suolo stradale, esposta agli agenti atmosferici e pronte per essere avviate ai processi di lavaggio e lavorazione, con l'impiego di acqua per uso irriguo anziché potabile, sono stati sequestrati in una nota distilleria. Nel bilancio anche sequestri in diverse aziende di un deposito che conteneva 15.000 litri di vino, privo di requisiti di sicurezza e senza certificato di prevenzione incendi, e di 150 kg di estratti naturali scaduti, sospesa l'attività. In un caso, un'azienda di preparazione a liquori utilizzava frutti di bosco e succhi di frutta congelati abusivamente e posti in cattivo stato di conservazione all'interno di congelatori di tipo casalingo. Il nostro obiettivo è analizzare le criticità, il rispetto degli atti di indirizzo europei e nazionali e i piani regionali, acqua e rifiuti, quali interagiscono con il territorio e il settore energetico. Vogliamo contribuire a dare certezza ai consumatori della fruizione dell'acqua bene comune, utilizzando la ricerca idrica, la depurazione, il riuso e incorretto uso, eliminando sprechi, perdite e allacciamenti abusivi. A parlare è Pino Lobello, presidente di FederConsumatori Palermo, parlando nel corso del convegno emergenza acqua e rifiuti, disagi e costi per il consumatore e come superarli. Il 14esimo report nazionale servizi e tariffe dei rifiuti curato da FederConsumatori nazionale, dice ancora Lobello, con la collaborazione dell'Istituto Studi sul Consumo, mette in evidenza le disparità di servizi nelle regioni italiane, nelle città metropolitane e nei comuni. E a Santa Maria di Licodia l'area artigianale è sempre una discarica. A inizio ottobre il sindaco Giovanni Butto si è impegnato a risolvere la questione in due settimane, ma nulla in realtà è cambiato. Vediamo. Una vergogna infinita alla quale l'amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia non riesce a porre rimedio. Parliamo della discarica che è diventata l'area artigiana licodiese. Le cui piazzole di sosta accolgono un'ingente quantità di rifiuti di ogni tipo. Dalla spazzatura domestica lasciata da chi non ne vuol proprio sapere di differenziare i rifiuti agli elettrodomestici, continuando con i copertoni d'auto, per finire con scarti di frutta sicuramente abbandonati da qualche commerciante, visto che sono ancora all'interno delle cassette di legno parti d'auto. Nella discarica a cielo aperto confluiscono dunque i rifiuti di comuni cittadini, ma anche di commercianti e titolari di attività commerciali. Non sarebbe difficile risalire agli autori, che hanno lasciato ben evidenti tracce di sé. Basterebbe solo controllare i rifiuti. Di questa discarica ci eravamo già occupati il 4 ottobre scorso. Avevamo contattato il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Butto, che aveva dichiarato a Chuck News che il nuovo servizio di videosorveglianza, affidato a una ditta esterna, sarebbe stato attivo in 15 giorni e che comunque, in caso di allungamento dei tempi, oltre le due settimane, l'area artigiana sarebbe stata ripulita. Dal 4 ottobre sono trascorsi non 15, bensì 27 giorni, quasi il doppio, e nell'area artigiana licodiese il sistema di videosorveglianza non è attivo e i rifiuti sono ancora lì. Da qualche giorno cerchiamo di contattare il sindaco Giovanni Butto per verificare sia l'avvio della sorveglianza sia la pulizia, ma il primo cittadino non risponde né al telefono né ai messaggi in chat. Probabilmente sull'area artigiana licodiese non ha proprio nulla da dire. Sottolleniamo un particolare. A inizio ottobre Plastic Free ha eseguito delle riprese video che poi è girato alla nostra redazione. In uno si nota la carcassa di un cane, ebbene ormai decomposta, era ancora lì questa mattina. Un chiaro segno dell'abbandono al suo destino di un pezzo di territorio licodiese. Ma non sono solo le aree di sosta ridotte a discarica e l'intera area artigiana ad essere abbandonata. Intanto i tombini sono ormai privi di grate perché evidentemente rubate dai soliti predoni di metallo ed ancora la vegetazione cresce a dismisura colonizzando i marciapiedi mentre tutto intorno è lasciato al proprio destino da chi amministra la cosa pubblica. Eppure qui operano imprese che portano benessere a licodia, posti di lavoro, investimenti, reddito, tutto quel che in una parola è dignità, quella dignità che è di contro all'area artigiana è negata. Come può un investitore scegliere questo luogo per impiantare qui la propria azienda? All'ingresso dell'area vi è pure una piazzetta, largo, civiltà del lavoro, che non sfugge al degrado. Anche qui pozzetti senza le grate, illuminazione fuori uso, vegetazione fuori controllo, spazzatura, un gazebo distrutto. Un luogo che meriterebbe sicuramente un destino migliore intanto per rispettare chi qui lavora e investe. Ma per questo è necessaria la volontà che evidentemente manca a chi amministra la cittadina. Il direttore del TG1 Gianmarco Chiocci è in Sicilia per una due giorni. L'occasione è la consegna della Torre d'Argento, premio organizzato a Santa Maria di Licodia e giunto alla sua 35esima edizione. Visita l'ampo del direttore del TG1 Gianmarco Chiocci in Sicilia. L'occasione è la consegna della Torre d'Argento a Santa Maria di Licodia, evento giunto alla 35esima edizione. Impossibilitato a ritirare il premio lo scorso settembre, in occasione dell'evento il direttore Chiocci si è concesso due giorni di riposo per riuscire nel contempo a visitare le città di Santa Maria di Licodia, paternò e chiudere con una visita sull'Etna. Il riconoscimento gli è stato consegnato ieri sera nell'Aula Consiliare a Santa Maria di Licodia dalla deputata regionale Giuseppe Castiglione, dal docente dell'Università di Catania Rosario Giuffrida, quest'ultimo tra i premiati di questa 35esima edizione di Torre d'Argento. Tra i presenti la presidente dell'assise civica Maria Russo e il patronna di Torre d'Argento Giancarlo Sant'Anucito. Il direttore Chiocci non si è poi fatto sfuggire l'occasione di visitare la Fontana del Cherubino a Santa Maria di Licodia e questa mattina tappa a paternò per una visita nella chiesa di Santa Barbara, dove è ospitata la statua della Madonna della Catena, opera di Antonello Gaggini, accolto da Alessandro Messina e da Giuseppe Mirenda. E ancora la chiesa dell'ex monastero della Santissima Annunziata per ammirare i dipinti della Madonna dell'Etria e la Madonna della Raccomandata, opere di Sofonisba Anguissola. Ad accogliere il direttore Chiocci, una delegazione dell'associazione Amici di Sofonisba, con in testa Don Salvatore Patanè. Turi Marchese, tra i componenti dell'associazione, ha declamato alcuni versi della sua opera in dialetto siciliano dedicata proprio a Sofonisba Anguissola, anticipazione dell'intero volume che verrà presentato sabato prossimo 9 novembre. In chiusura una visita sulla collina storica e poi l'immancabile Etna. Ogni volta che vengo in Sicilia mi emoziono, ma in questi territori mi sono emozionato ancora di più. Sono territori fantastici che conoscevo, ma non così bene e che ora mi impegno a far conoscere ancora di più anche agli italiani, facendo qualcosa di particolare anche per questi territori, perché meritano di essere raccontati ancora di più di quanto lo sono stati fino ad oggi. Il telegiornale delle ore 20, ma anche delle 13, delle 8, della mezzanotte, sono tutte dizioni improntate all'autorevolezza, all'assoluta correttezza, a cercare di essere i più obiettivi possibili, raccontare con i nostri occhi quelli che voi non potete vedere, quindi filtrare tutto ciò che è importante la sera raccontare davanti a milioni di telespettatori. E quindi siamo ovunque, siamo nel mondo, siamo nella guerra in Ucraina, siamo a Gaza, ma oggi siamo anche a Valencia dove c'è stata questa tragedia pazzesca e al contempo siamo in giro per l'Italia a raccontare le cose brutte, ma anche tante cose belle. Tutto quello che accade all'estero non è solo estero, c'è anche delle grandi ricadute in tantissimi aspetti su quanto riguarda il nostro paese e quindi sono i nostri occhi, ripeto, con i nostri inviati, anche a rischio della vita, perché i nostri inviati rischiano la vita tutti i giorni. Informazione e conoscenza, trasparenza. Lei ha realizzato due importanti interviste tra le tantissime che ha realizzato, la ricordiamo, sono quella con Papa Francesco durante il periodo Covid, che è l'obiettivo ovviamente di dare soprattutto sicurezza agli italiani, e poi quella con ex ministro San Giuliano. Ecco, queste due interviste, che cosa hanno lasciato in lei? Sono due interviste ovviamente completamente diverse. L'intervista con il Papa è stata una cosa molto, molto emozionante, anche per chi fa questo lavoro ormai da tanti anni, perché comunque il Papa si è aperto più di quanto ha fatto in altre interviste, ha raccontato tante cose anche di sé, personali, ha raccontato il ruolo della donna, della guerra, delle sofferenze, ma soprattutto si è posto in un modo inedito, e questa cosa è piaciuta tantissimo, infatti ci fu, è stato un record degli ascolti incredibile. Quanto riguarda San Giuliano è stata un'intervista ovviamente importante su un fatto di cronaca che in quel momento teneva inchiodati tutti gli italiani a sapere come erano andate effettivamente le cose, se c'era stato speppolo di denaro pubblico, se sono stati violati documenti riservati, e quindi è stata un'intervista a tutto campo, dove da quella che è la filosofia del TG1, io al Ministro ho fatto tutte le domande che andavano fatte e che tutti gli italiani avrebbero dovuto fare al Ministro, quindi sono stato un tramite degli italiani, tutto qua. Gibellina, la città insegnita del titolo di Capitale d'Italia dell'arte contemporanea per l'anno 2026, lo ha annunciato il Ministro della Cultura Alessandro Giulio, in occasione della cerimonia di proclamazione del Comune Sceltro, tra i cinque finalisti con Pescara, Carrara, Gallarate e Todi, avvenuta dopo il lavaglio delle 23 proposte di candidatura arrivate al Ministero. Il titolo, ha annunciato la Presidente della giuria, Patrizia Sandretto Re di Reba Udengo, è stato assegnato all'unanimità. Mister Bianco, in Comune, cinque nuove assunzioni e tre progressioni verticali. Per il Sindaco Corsaro prosegue la storica fase di rafforzamento organico del lente. Vediamo. Al Municipio di Mister Bianco sono state esiglate nuove assunzioni per quattro nuovi funzionari e un istruttore di vigilanza, grazie allo scorrimento delle graduatorie elaborate dal Comune nell'ambito dei numerosi concorsi banditi negli ultimi anni. A ciò si sono aggiunte le progressioni verticali di tre dipendenti della ex categoria C, oggi divenuti funzionari tecnici e amministrativi in forza delle procedure di valorizzazione del personale interno varate dall'amministrazione Corsaro. Il Sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, ha preso parte al momento delle firme. Prosegue proficuamente, ha dichiarato, la storica fase di rafforzamento dell'organico del Comune di Mister Bianco da noi inaugurata nel 2021 dopo lunghi anni di depotenziamento dell'ente. Da un lato immettiamo ancora forze fresche, prosegue il primo cittadino, nuovi lavoratori che vanno a implementare i nostri uffici. Dall'altro diamo un'opportunità di crescita ai nostri dipendenti che grazie alle progressioni si vedono valorizzati dopo anni di dedizione e impegno al servizio del Comune. Stiamo mantenendo l'impegno, conclude il Sindaco di Mister Bianco, sul rilancio della macchina amministrativa, grazie anche all'ufficio personale che sta dando prova di attaccamento all'istituzione, sviluppando azioni performanti come in pochi comuni d'Italia. Era questo il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.